Le mille anime di Franco Zeffirelli, parliamo di questo su Rave News con me, io sono Elena. Franco Zeffirelli si è spento all'età di 96 anni a Roma, grande regista cinematografico, non solo, regista anche teatrale di opere liriche molto importanti ed è stato anche una figura politica fondamentale. Nel 94 e nel 96, in queste due legislazioni, lui è sceso al fianco di Silvio Berlusconi, al quale lo legava un grandissimo rapporto di amicizia, è stato infatti candidato ed eletto senatore di quelle due legislazioni. Gasparri lo ha ricordato non soltanto per la sua imponente e importante figura culturale, ma anche per il coraggio che ha avuto di scendere in campo in un periodo molto delicato per quanto riguarda la politica italiana. Altrettanto ha fatto Micichè, che lo ha ricordato con bellissime parole, un ricordo commosso e molto tenero è arrivato anche da Placido Domingo, appunto cantante lirico, con il quale Zeffirelli ha lavorato tantissimo sia in produzioni cinematografiche che in opere liriche. Domingo ha detto che appunto li legava un grande rapporto umano, oltre che professionale, e solo una volta il regista si è arrabbiato con lui sul set, ha urlato, si è arrabbiato, ha detto vado pausa sigaretta, vado a fumare una sigaretta ed è tornato dopo due giorni. A quel punto Domingo gli disse, Franco è durata tanto questa sigaretta, il regista sorrise e lì finì tutto. Vi ricordiamo che i funerali verranno celebrati a Santa Maria del Fiore, il Duomo di Firenze, martedì 18 giugno alle ore 11 e si tratta del terzo funerale laico che viene celebrato all'interno della cattedrale. Gli altri due funerali sono stati per Giorgio Lapiera e per il poeta Mario Luzzi. Lunedì invece 17 giugno le esequi saranno esposte nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze.